Mister Epifani, un pareggio riacciuffato in Estremis, che però regala per come stava andando la partita un buon punto al San Di Colombo. Ma per come andava la partita è un grande punto, perché recuperare alla fine sebbe un punto guadagnato contro una squadra che arcigna, sgorbulica di questo campionato, perché se pensiamo che ha perso solo una partita fuori casa, quindi vuol dire che ha dei valori, e noi oggi eravamo in difficoltà, perché non tanto per Mozzoni, che è un difensore, però ci mancano le due punte di ruolo, quindi abbiamo cercato di arginare, di cercare di sopperire a queste assenze, facendo gioco, però quando incontri una difesa forte, non avendo forza penetrativa con gli attaccanti, diventa difficile fare gol. Però credo che a loro gli abbiamo concesso niente, una punizione, hanno fatto gol. La squadra ha cercato di giocare anche nei momenti difficili, e poi alla fine l'abbiamo recuperata, secondo me, meritatamente, e poi abbiamo usato anche la palla per vincerla, quindi sarebbe stata una cosa fantastica. Però ci portiamo a casa a questo punto, venivamo da una sconfitta dura, dove a livello mentale sicuramente ci ha toccato qualcosa, però oggi abbiamo recuperato una partita, perché in altri momenti, magari dopo una sconfitta tre giorni fa a fermo, potevamo mollare solo 1-0, invece la squadra ha giocato, ha cercato di portare a casa il risultato, anzi di vincerla, poi l'abbiamo pareggiata, tutto riguadagnato. Mister, all'andata finì un pareggio, oggi un altro pareggio, però un pareggio che lascia la mare in bocca. Sì, una partita che lascia la mare in bocca, per com'è andata, la premessa è quella che oggi sapevamo di incontrare un Nicolò, che aveva qualche difficoltà, soprattutto negli ultimi metri, con due attaccanti di valore come Treni e Moretti, che mancavano, e un giocatore importante come Mozzoni, che reputo uno dei giocatori più importanti sulla spinta offensiva di questo campionato. Fatta questa premessa, anche noi però avevamo i nostri assenti, perché in questo periodo del campionato, tutte le squadre ce l'hanno, a noi mancavano quattro giocatori, tra cui un signor Pedalino, due ottimi fuori quota come Bracciatelli e Aloisi, quando mancano i fuori quota è sempre un pochettino difficile mettere a posto, anche se quelli che hanno giocato oggi poi hanno fatto benissimo a loro parte. Nonostante questo, io credo che, pur essendo il San Nicolò una delle squadre che stimo maggiormente, e che anche oggi ha dimostrato che in difficoltà è riuscire a fare sempre la sua partita, è una squadra importante, che sono campionati, che fa bene, ottimamente allenata, però credo che oggi il Monticella avesse qualcosa in più, ha dimostrato di avere qualcosa in più.